Fin da piccolo ho sempre scarabocchiato, ho fatto sempre dei bozzetti su qualsiasi foglio che trovavo a casa, qualsiasi cosa, che era una macchinina, che era una moto, non serve disegnare. La creatività è stato il mio pensiero fisso, ho senso di lavorare in un'agenzia di pubblicità, l'ho fatto, ho sempre voluto disegnare oggetti e vederli in giro per il mondo, e ho fatto anche questo. Allora, tutto è partito grazie ai primi modelli della Malagutte, nota azienda di scooter italiana dove lavoravo e seguivo la comunicazione. Da lì ho presentato i miei bozzetti per le grafiche ed è stato l'inizio. E in tutti questi progetti riprendo sempre qualcosa che richiama la natura, sempre. Ritengo che la natura sia il miglior designer dei modi. In natura vediamo forme, colori incredibili. Difatti, la mia ispirazione mi viene andata dalle forme lì. Crediamo molto nella creatività di tutti i suoi campi. Siamo molto curiosi su questo lato qua. Ogni forma, che sia una foglia, che sia un insetto, ci può dare quell'imposte per trovare quell'elemento distintivo in quel determinato progetto. In più ci dà modo di conoscere in questo settore tantissime persone, da ingegneri, designer, meccanici, elettronici. È un settore che veramente è di altissimo livello. Il progetto deve essere, come dico sempre, funzionale e poi bello stilisticamente. Se il progetto non è funzionale ed è bellissimo, per me non funziona. Quindi prestiamo una grande cura nel ricercare quella funzionalità all'interno del prodotto. Quello per me è fondamentale. Poi dopo che viene fuori un bel design è una conseguenza. La nostra filosofia è che il disegno parte dall'immagine sul foglio bianco che poi la portiamo sul computer e non viceversa. Noi siamo provati che sia di disegnare una barca, di disegnare una semplice bicicletta, prima di tutto deve partire da una ricerca, trovare in questo prodotto il suo vero DNA. Cioè deve essere il giusto equilibrio tra tecnologia e il design. Sicuramente il design deve restare più a lungo, perché la tecnologia cambia molto rapidamente. Il design per noi è un elemento che deve restare per più tempo e se è possibile determinare proprio il prodotto. Ci teniamo molto a portare lo stile del design italiano in quello che facciamo. È un elemento che è riconosciuto in tutto il mondo e siamo fieri di portarlo avanti. Il settore militare è avvenuto grazie alla Super Termoli Power Boss in Grecia. Loro svengono già dal settore militare con una barca simile. Ci ha coinvolti in questo progetto di sviluppare i nuovi ST-60 e il drone ST-50, due progetti di altissimo livello e piuttosto innovativi. Bellissima esperienza. I magazine internazionali ci hanno dato un grandissimo contributo perché ci hanno dato una grandissima visibilità perché hanno visto il potenziale enorme di queste due barca. Le forme delle ST-60 in particolare sono state sviluppate dando una grande attenzione allo studio aerodinamico. E anche qui la funzionalità è per noi fondamentale. Sono barche dove abbiamo studiato un singolo particolare. Dalle inclinazioni delle paratie all'aerodinamica, alle paratie di rinforzo, di protezione. E anche qui abbiamo voluto usare il concetto dell'invisibile. Quindi ogni supporto, meccanismo sarà scomparsa. È un progetto che ci ha dato grandi soddisfazioni. E ora stiamo cercando il modo di svilupparlo e metterlo in acqua. Per esecchire il construct del nuovo simulatore, abbiamo avuto modo di conoscere persone che vengono dal mondo della Formula 1, raccogliendo maggiori informazioni sul discorso tecnologico. Vedi chi vola usano dei simulatori, gli astronauti usano un simulatore. I videogiochi fanno delle simulazioni. Lo simulatore di Formula 1 non è semplicemente uno schema con il volante, perché ora i simulatori si muovono, sono dinamici. Vogliamo renderlo ancora più dinamico, con appendici mobili, con dei collegamenti tra pilota e computer, per un maggiore dialogo, per renderlo più realistico. Dallo stesso trenerino. È molto importante questa cosa qua. Siamo una realtà giovane. Siamo tutte persone giovani, tutti pervengono da diverse realtà. chi viene dal settore nautico, chi viene dal settore dell'elettronica, chi viene dal settore aerodinamico, chi viene dal settore delle corse. È un team molto affettato e crescerà sempre di più. Assimilare nuove competenze. Come è stato fatto nel militare, vorremmo farlo anche in altri settori, che sia l'aerospazio, che è una cosa che ci attira parecchio, anche questo qui è il settore molto tecnologico, e che sai il futuro dovrà arrivare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.